simmetrica tratte operatore e la cliente la cliente ha vari modi di esprimersi che tecnicamente volte volte non collima con quello che il parrucchiere tecnicamente va a realizzare per questo dobbiamo stare molto attenti alle parole che la nostra cliente ci possa dire però per aiutarla noi abbiamo bisogno di fare delle domande e delle domande aperte che dia una risposta prolungata e non solamente un sì e un no diciamo 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 diciamo